ben ritrovati con podisma e atletica da fabio sinatti e moreno sinatti ecco qui ritorniamo un attimino qualche a qualche giorno sono con la maratona città di arezzo che ovviamente ha avuto un epilogo importante diciamo in questa manifestazione come vedete anche i colori che sono stati presenti quest'anno il fucsia per le per diciamo per i non competitivi per la mini run e moreno e per parecchi che hanno voluto essere presente la competizione infatti questi colori erano tanti cioè questo fucsia si vedeva bene perché erano tantissimi e ecco sono stati più di quelli che speravamo quindi è un incentivo per l'anno prossimo di fare ancora di più ecco qui intanto vediamo la partenza abbastanza rapida da parte dei protagonisti di questa diciannovesima edizione della maratona città di arezzo è ovviamente quello che ha fatto effetto un po alla città ma tutti diciamo anche gli appassionati e non solo è vedere questa marea di persone presenti alla competizione sportiva moreno che effettivamente cioè le manifestazioni sono tantissime e in concomitanza con questa mezza maratona in italia ce n'erano altre otto e venendo risultati questa è stata quella che ha avuto maggior successo dal punto di vista tecnico dopo di partecipazione sono sappiamo che i numeri ad arezzo sono questi è impossibile portarne però sono già per me tantissimi però ecco tanti tanti perché diciamo duemila atleti partecipare in una mattinata in questa maniera cioè uno spettacolo è impressionante e penso anche per i più diciamo critici si può dire che veramente è stato un grande successo abbiamo detto duemila ma erano anche qualcosa di più abbiamo fatto sì perché poi ci sono anche ci sono anche coloro che hanno corso senza pettorale quindi ecco c'è noi abbiamo fatto una valutazione riferita ai non competitivi compettorali abbiamo dato via esatto esatto però ecco effettivamente è stato un grande successo ma poi abbiamo visto la ma direi la soddisfazione da parte di molti partecipanti che alcuni hanno le prime esperienze insomma quindi tutte cose che sicuramente la maratonina coinvolge rispetto ad altre ad altre manifestazioni l'unica manifestazione che si imbucano tutti riescono tutti a a farla perché si imboscano bene diciamo così c'è tantissima gente quindi c'è non è che viene riesco a essere partecipi al tempo stesso non non demeritare non demeritare la loro presenza la loro partecipazione sono anonimi nel gruppo e quindi si trovano bene è però è chiaramente anche perché ci sono ritmi molto variegati diciamo da quelli che vanno fortissimi a quelli che vanno anche più ad agio poi ci sono anche le distanze alla portata un po di tutti perché dai tre chilometri alla nove chilometri che stanno insomma abbiamo visto veramente una varietà di presenze sia femminili sia maschili sia giovani che diciamo anziani insomma ecco partecipare a questa questa manifestazione cioè l'anno competitiva quasi più donne che uomini erano mentre nella competitiva rispetto a qualche altra gara qui le donne erano non erano neanche tante tantissime erano erano circa 200 quindi su mille e cento persone competitive insomma erano una piccola parte però vabbè diciamo che il settore femminile comincia a essere molto agguerito addirittura diciamo quest'anno a livello femminile c'è stato veramente a parte il record della competizione ma proprio una qualità importante insomma ecco si abbiamo avuto se sento otto persone che sono ecco la prima italiana mi sembra arrivata non è arrivata la tamburi silvia che è una che vince anche le gare quindi qui è arrivata per far capire insomma il livello il livello diciamo presente in questa in questa competizione ma poi la la moseti che poi sarà stata sarà la protagonista diciamo della gara ha forse esagerato cioè voleva fare veramente un risultato eclatante forse la partenza troppo eccessiva l'incentivi che ci sono per l'aggiungimento di un determinato premio in base al tempo quindi ti porta a partire forte penso e sicuramente poteva ancora scendere di un minuto in due minuti avrebbe voluto dire tantissimo per loro e per noi anche ecco intanto vediamo proprio i protagonisti al passaggio dopo 9 chilometri e 30 metri un gruppetto ancora molto compatto perché una decina di atleti particolarmente agguerriti tutti con lo spirito di fare un tempone insomma da un punto di vista tecnico ovviamente e qui vediamo il nostro anche Stefano La Rosa che sicuramente ha fatto una gara eccezionale in rimonta addirittura quindi ha fatto il recupero perché il ritmo impresso dall'inizio era talmente elevato che non se la sentiva di fare e qui le donne che in mezzo a tanti uomini vedete proprio con atleti particolarmente agguerriti anche anche qui tre donne a contendersi la vittoria insomma questo ci fa ci fa capire qual era il livello tecnico dei concorrenti ma direi anche gli arretini sono andati bene sono andati qui ecco vediamo vannuccini alessandro annetti poi tartaglini poi l'ansi che poi la fine proprio arriverà in fondo per il proprio per per dire di essere arrivato però sicuramente non era quella la sua posizione e qui intanto vediamo i protagonisti della gara con ovviamente Kalele e Roger Maio diciamo a condurre la gara con il petrolio numero 6 che è un atleta che conosciamo oramai da sia per la scala da casello per la mezza maratona sempre fra protagonisti e poi il Kemlal il marocchino che noi pensavamo alla prima esperienza quindi chiaramente c'era il punto di domanda la partenza l'ha fatta bella quasi a fine gara era con un gruppetto di testa poi dopo è calato sicuramente cioè il 21 chilometri ce l'ha però non ce l'ha a quei ritmi che hanno imposto gli altri esatto però ecco direi che da un punto di vista tecnico se noi andiamo a valutare un po una un'analisi per quanto riguarda i partecipanti a questa a questa gara dobbiamo dire che per quanto concerne insomma scendere sotto l'ora e 10 e siamo arrivati a diciamo ben 30 32 atleti 32 atleti sotto l'ora e 10 significa scusate no ho sbagliato io ecco sotto l'ora e 10 sono arrivati 25 atleti 25 atleti diciamo è un livello tecnico molto elevato perché con un'ora e 10 molte mezze maratoni vengono vinte insomma anche un'ora e 11 e 12 le vincono esatto quindi le mezze maratoni che hanno fatto quella domenica lì hanno vinto anche con un'ora e 11 e un'ora e 12 quindi il livello tecnico era molto molto alto ma poi ecco anche scendere cinque atleti sotto l'ora e tre vuol dire ecco qui vediamo Kemlalle con la maglietta viola che insomma si vede che corre bene viene dalla pista viene da 3.000 siepi quindi intanto vediamo anche le retrovie del gruppo che però è molto agguerrito molto qualificato anche non c'è mai uno spazio fra un atleto e l'altro è difficile che si creassero degli spazi e che vediamo anche ecco lateralmente abbiamo visto i famosi diciamo atleti della minirunnera non competitiva le scuole presenti insomma insegnanti che hanno partecipato insomma questo ci fa estremamente piacere perché poi coinvolgono anche queste cose coinvolgono diciamo anche la collettività diciamo nel suo complesso quindi anche i disagi che a volte qualcuno purtroppo nonostante le cose ci ci reclamano però sono di giaci limitati e qui intanto vediamo nella zona nuova che è stata creata quest'anno la rosa che un stefano la rosa che ha fatto veramente una gara in rimonta eccezionale perché la a metà gara diciamo che era ancora intorno alla decima dodicesima posizione poi ha fatto un recupero finale micidiale insomma ecco cercando di arrivare addirittura andare a risuperare che è Mlal che era nella testa della corsa fino a due terzi di gara insomma ecco lui è dopo la maratona dei campionati del mondo è la prima gara che rifaceva è stato fermo un poco ha ripreso la preparazione da poco più di un mese insomma ecco è arrivato abbastanza perché ha fatto un'ora a 0-3 qualcosa e mentre l'altra volta che aveva corso l'altra mezza maratona che aveva fatto ad Arezzo aveva fatto un'ora a 0-4 e speech quindi ha fatto una bella gara direi così e fra l'altro ci ha promesso che in occasione della cerimonia della cena del Grand Prix quindi sarà presente molto volentieri perché lui ormai Arezzo la presta come seconda come seconda diciamo città perché effettivamente corregge molto volentieri quando ad Arezzo quindi se non è venuto qualche volta è perché non ce l'hanno mandato esatto esatto quindi cioè lui ci sta molto molto bene con noi insomma ecco c'è un rapporto di amicizia molto stretto e soprattutto è un ragazzo molto è un battagliero ecco è uno che riesce ad esprimersi più forse a volte di quello che potrebbe esserci probabilmente se facessero i campionati del mondo qualcosa del genere nella zona di Arezzo sono convinto che potrebbe veramente dare il meglio di se stesso ma comunque vabbè vediamo intanto andiamo per gradi andiamo andiamo per gradi già intanto averlo avuto nella nostra città è stato importante uno degli italiani uno dei pochi azzurri che ancora gareggiano e gareggiano anche a certi livelli quindi questo ci fa estremamente piacere qui intanto vediamo proprio la gara femminile che è stata condotta da questa Mosetti ma anche tallonata dagli altri da Giulia che questo è il Calile Yassin che verrà superato dopo da queste donne però questo è il migliore atleta che abbiamo noi in questo momento escluso Artiglioni che è fermo e qui vediamo ecco vediamo che sta allungando decisamente questa ragazza questa giovanissima atleta che ha vinto la scalata al castello e che si è riproposta anche lei come alcune altre atlete hanno vissato il successo per due volte consecutive perché non capita così spesso quindi intanto vediamo l'arrivo proprio nel finale dell'atleta Burugu che è riuscito a vincere con il tempo di 1-2-14 quindi un bellissimo tempo 1-2-24 per l'altro connazionale che è mai Moses e Kipengetis e poi Mario Rogers che ha tirato la gara fin dall'inizio forse forse ha pagato questo diciamo questo condurre la gara molto tirata però grandissimo atleta anche questo fortissimo poi Nakere e Joas al quarto posto Mangata al quinto posto e tutti sotto l'ore 3 e poi vediamo ecco Kemlal che insieme alla rosa la rosa che ha fatto veramente un tempo direi importante perché con il tempo di 1-0-3-20 non vale e poi vediamo la Mosetica 44 la Mosetica la Mosetica soddisfatta forse poteva scendere addirittura se faceva una gara più accorta anche sotto l'ore 9 e allora sarebbe stato un successone anche a livello mondiale sarebbe stata una tra le gare più forse fra i risultati tecnici più importanti diciamo dell'anno ma comunque sia la colloca sempre fra le prime 25-30 atleti al mondo per quanto riguarda questa distanza insomma quindi non male non male qui vediamo proprio arrivano anche le altre concorrenti l'arrivo un pochino diciamo affollato ma comunque sia è una giornata di gioia insomma tutto sommato Moreno quindi abbiamo visto anche mondo convenienza altre aziende che sono state presenti lì hanno fatto divertire hanno dato degli omaggi in più anche agli atleti insomma ecco quindi è una festa completa che si realizza ogni anno ecco bisogna cercare di imparare forse a realizzarla ancora più ampia sì cerchiamo di prima di tutto ecco questa gente tutta questa gente l'arrivo cercheremo di non farcela non farla vedere più prossimamente nelle prossime gare perché c'è tutta gente che anche all'ultimo momento entra dentro passa dentro le transzende le salta e dopo è molto difficile crea dei problemi anche per le riprese televisive insomma ecco che a volte potrebbero essere ancora migliori però ecco vediamo tutto sommato non è male rispetto a molte altre competizioni insomma cerchiamo di chiaramente migliorare non è mai poco insomma ecco quindi l'obiettivo intanto vediamo anche l'arrivo di Alessandro Annetti che chiaramente giunge al traguardo anche lui soddisfatto nonostante diciamo il tempo non dei migliori ma comunque è una gara sempre molto dura insomma ecco quindi grande grande prova da parte degli Aretini ma soprattutto direi che è stata una festa per la città di Arezzo sicuramente anche a livello di l'organizzazione del traffico mi sembra che è andato tutto bene e cioè le strade erano cioè il comune ci ha voluto bene questa volta e ha aiutato l'organizzazione affinché si realizzasse insomma un evento perché poi questo qui è uno degli eventi più importanti della città nell'arco dell'anno ora il 2018 diciamo ci sono in programma tre iniziative importanti la scalata al castello a fine maggio a fine giugno ci saranno i campionati italiani master di Atletica Leggera e a fine ottobre quindi ogni fine settimana ogni fine mese ci saranno diciamo degli eventi importanti ecco qui vediamo la soddisfazione anche dell'arrivo di altri atleti anche nelle retrovie bene siamo passati adesso dalla maratina città di Arezzo alla Corripuglia la manifestazione che abbiamo spostato diciamo inizialmente programmata per i primi di ottobre è stata spostata ai primi di novembre e direi comunque sia con un buon risultato buon risultato sì siamo stati fortunati anche lì il tempo l'abbiamo fatta in tempo il tempo ci ha assistito il tempo era bellissimo insomma è stato un bel tempo non era freddo per niente e anche a livello di partecipazione è stata è stata buona è stata buona perché oltre 200 atleti direi un grande successo è stata una gara di punto di vista tecnico buona diciamo per i livelli che diciamo ci sono e poi anche la partecipazione come vedete questo lungo serpentone di concorrenti che veramente ha invaso la zona di Puglia e zone limitrofe piacevolmente ecco quindi abbiamo visto che la gente come anche gli amici di Puglia della Polisportiva Puglia che hanno organizzato in collaborazione con la Polisportiva di Puglia sono rimasti molto soddisfatti ma anche proprio perché effettivamente hanno visto che c'è sempre più partecipazione anche da parte degli aretini e non soltanto a queste competizioni molte volte sì ecco parecchie volte bisogna addominare anche la data giusta per fare questa non è facile non è facile perché sono tutte piene le domeniche i calendari sono diventati molto molto concentrati quindi però c'è da dire che è un bel percorso non è noioso non è abbastanza impegnativa impegnativa sì sì impegnativa come gara impegnativa però è un bellino è un percorso che scorre bene anche gli atleti sono rimasti tutti soddisfatti perché effettivamente anche il primo giro è bellino il primo giro corto che è circa un chilometro e mezzo è bellissimo perché ripassi dall'arrivo subito dalla partenza una bella divagazione poi è molto ecco come dicevi te è molto vario quindi non si annoiano gli atleti anche perché trovano salita, discesa, pianura poi sterrato, asfalto diciamo anche la vegetazione più o meno diciamo adeguata insomma ecco anche qui diciamo che il problema anche del traffico non c'è stato pertanto anche questo ha aiutato moltissimo anche gli atleti a correre in sicurezza ci sono solo due attravezzamenti poi le altre strade sono tutte strade sì che non hanno problematiche particolari qui intanto vediamo la prima salita che era particolarmente impegnativa questa bellina è un bel percorso questo mi piace un sacco sarebbe da fare un circuito ma abbiamo detto diventerebbe sempre molto problematica anche questa cosa che vediamo proprio la salita che dall'alto risalgono diciamo per entrare verso il paese quindi è chiaro che diventa un pochino più problematica la cosa però ecco carino queste variazioni anche all'interno della frazione di Puglia che è una località posta diciamo in questo cucuzzolo che però accoglie anche tanti abitanti e al tempo stesso ha lasciato la corsa ciclistica che una volta era un po' la loro battaglia la sesta edizione diciamo di questa Corri Puglia che si è consolidata direi che è una fra le migliori gare della provincia di Rezzo sia da un punto di vista tecnico quantitativo e anche diciamo di premiazione quindi di qualitativo quindi è un impegno che si sono presi gli amici di Puglia ma che stanno portando in maniera molto egregia avanti insomma ecco qui vediamo proprio la presenza lo dimostrano la presenza anche degli atleti maggiormente accreditati in questo periodo che sono qui presenti qui intanto vediamo Marini della Marathon Città di Castello che controllava un po' la situazione poi Taos Zaccaria il Fiorino poi Vannuccini Francesco Polizzi del Campino poi Di Labrezzi Daniele e poi Tartaglini che era davanti a tirare la gara e chiaramente questo gruppetto Sorgnone dietro invece vedete lì vediamo Annetti, Verni poi vediamo il giovane Atleta Del Buono poi Mori poi Metius, Satigliano ecco tutti atleti che ovviamente ancora siamo le prime avvisaglie diciamo di questa gara qui Filippo Chiolini che era partito abbastanza bene inizialmente poi anche lui problemi forse tendine l'hanno costretto a fermarsi insieme anche ad alcune sue atlete che allena normalmente direi che la battaglia è stata anche a livello della categoria veterani con Cassini che è andato molto forte rispetto anche a Rosario Valentino mancava Fontani Ettore che ultimamente mi sa che era un po' in difficoltà e poi vediamo ecco Floridi Lucio che però c'aveva lo Scaglia davanti che a Scaglia ormai diciamo si sta prestando a vincere il circuito del Grand Prix se ormai l'ha vinto è troppo superiore cioè il Floridi è circa si equivalgono però è mancato in alcune gali è stato fregato con questo senso ecco qui vediamo la parte diciamo bassa una divagazione qui vediamo anche la Barnischi Francesca che però ha trovato diciamo osso duro nei confronti di Tomasun, Monica e anche di Nicoletta Sanarelli che sta crescendo tantissimo anzi è cresciuta tantissimo addirittura diciamo è leader del circuito del Grand Prix ormai cercherà di mantenere questa leadership anche con l'ultima prova di domenica prossima per il Memoria Annetti quindi un punteggio triplo ricordiamo che domenica prossima ci sarà la partenza alle 9 della sede della Polisportiva sono due percorsi l'iscrizione sono praticamente chiuse abbiamo circa 350 atleti diciamo nella gara del trail fra 12 e 22 km e poi ci avremo anche un centinaio di giovani quindi sicuramente saranno spettacoli il pomeriggio questi saranno ecco qui dopo c'è anche la sala della pappardella se qualcuno il giorno vuole rimanere a pranzo noi siamo lì ecco qui intanto tornando alla gara Moreno questo qui è un altro tratto particolarmente impegnativo ecco qui siamo un po' in discesa ma la parte prima era quella salita c'era un rifornimento anche lì sono 100 metri abbastanza impegnativi e poi dopo qui scende tutto fino a Puglia alla base di Puglia qui sul ritmo qui sul ritmo tranquillo che corrono molto facilmente vediamo Alessandro Anetti prima aveva visto Satigliano Maetrius che chiaramente stanno ecco qui vediamo Verni e Lorenzo che Sorgnone sta risalendo il gruppo mentre anche il gruppo di testa sembrerebbe abbastanza tranquillo Brezzi però qui c'è la spinta di Vannuccini in particolare Vannuccini è stato il più attivo almeno nella prima fase della gara per cercare proprio di tenere il ritmo poi dopo Vannuccini ultimamente ha fatto anche delle belle gare quindi sicuramente si sentiva è più maturo anche come mentalità come modo diciamo anche di affrontare certe competizioni Taos e anche Luiz Orgnone anzi pensavo potesse fare qualche sgambetto diciamo ai protagonisti poi dopo nel finale diciamo è diventato un pochino più difficoltoso forse anche le salite no può darsi che è a corte di preparazione in questo momento anche perché ora si stanno preparando sta puntando tutto per le campestre che ci saranno fra fra non molto fra non molto anzi addirittura diciamo i primi dicembre ci saranno i primi cross per il Grand Prix la terza prova sarà a Policiano per la Befana Campestre il 6 gennaio e la quarta prova invece sarà a Prato il 14 di gennaio quindi insomma ecco tutte il 6 di dicembre si comincerà il Grand Prix con il circuito con la corsa di Natale e addirittura c'è in procinto di fare anche una corsa dei Babbi Natale nella zona Arezzo zona Giotto cioè Arezzo zona Giotto e zona diciamo anche di di Vittorio Veneto Salione sì e qui intanto vediamo il passaggio intanto per quanto riguarda i concorrenti che vediamo che Verni ancora è molto dietro però sta recuperando nei confronti di Brezzi quindi già però era distanziato moltissimo rispetto anche ai battistrada c'è anche lui del 76 quindi è già maturo e ha una tantissima esperienza perché sa è capace di correre sa che il percorso è quello lì è adatto anche alle sue caratteristiche il discorso della salita non è male qui intanto ecco vediamo ancora le riprese vediamo anche Stefano Sinatti abbiamo visto il precedente Alessandro Annetti via via si susseguono questa salita che direi è tosta è tosta farla due volte e qui vediamo anche anche la Barneschi ancora è in testa però vedi la Tomasun è nello spazio di 10 metri 15 metri la Nicoletta Sandrelli a 30-40 metri insomma questa è una garettina che a livello femminile veramente è stata incerta fino alla fine è stata incerta anche in maschile anche quella dei veterani degli agentoli che è stata quasi involata e qui vediamo proprio all'arrivo vediamo l'arrivo di Marini che giunge al traguardo a conclusione diciamo di una prova direi orgogliosa insomma ecco Gagliarda e poi Verni che proprio nel finale supera gli altri avversari con Vannuccini al terzo posto che forse accusa la sua impostazione di gara forse troppo forte all'inizio però sempre forte questa è una gara che anche per lui la salita non è che sia il massimo poi Zaccaria Taos al quarto posto che precede proprio Alessandro Tartaglini al quinto poi Tartaglini Alessandro sì poi vediamo Brezzi Daniele che chiaramente sarà uno dei protagonisti di domenica prossima al trail di Policiano membro Donnini poi Alessandro Annetti eccolo qui anche lui è sempre nella breccia comunque mantiene sempre una linea di condotta molto giusta poi Satigliano Mathius anche lui è andato molto bene poi ecco il giovane Mbarek Mohamed che l'anno prossimo vestirà i colori della sportiva Policiano come Juniors quindi un atleta che sicuramente è cresciuto tantissimo come Giacomo Ragazzini che mantiene peccato diciamo di avere mancato la corsa dei laghi se no poteva andare forte che vediamo Stefano Sinatti giunge al traguardo anche lui in questa salita che un po' tutti provano ecco quindi vediamo la volata proprio nel finale vedete che la Barneschi Francesca proprio nello spazio di 10 metri supera la Sanel Nicoletta che forse dice che poteva tentare qualcosa e la Tumasum vedete quella lì in maglia gialla lo scaglia Gianmarco ecco qui la rosa e Floridi anche loro nello spazio proprio di 10 metri quindi lotta veramente serratissima in tutte le categorie quando ci sono questi percorsi così impegnativi non è tutto scontato e qui vediamo anche la Boncomagna e Lucia che sta ritornando alle gare dopo un periodo di inattività poi la Tiberi Lucia che vince la sua categoria ecco che insieme vediamo anche gli arrivi vediamo anche Moreno Sinatti abbastanza provato in questa salita con una costola inclinata e qui siamo passati intanto che c'era meno male acceleriamo un pochino la partenza anche del settore giovanile perché era in procinto anche pioggia e quindi qui vediamo ecco il gruppo dei giovani che purtroppo non sono sempre particolarmente numerosi però noi insistiamo ancora a far sì che le gare possano essere effettuate intanto vediamo Gialli della Lucia Gianciano che va a vincere in campo maschile e poi qui vediamo invece Baldi invece per il settore e poi Fakar poi via via si susseguono i vari atleti nelle varie categorie vediamo comunque molto diciamo agonismo ma vedete che partenze rapide ecco domenica probabilmente avremo un numero un pochino più alto di partecipanti e questo ci fa estremamente piacere anche per ricordare proprio la memoria proprio Gabriele Annetti giovane ragazzo che è appassionato proprio di atletica faceva atletica leggera insomma quindi sarà veramente una giornata di sport completa dalla mattina alla sera qui vediamo le giovani atlete qui vediamo la Asia Beccatini Beccatini che è in testa proprio al circuito del Grand Prix vedete proprio con Corre anche bene Corre molto bene poi soddisfatti sono ecco questi ragazzini la seguitissima la genitoria la portano e qui siamo all'ultima gara quella più giovani che ovviamente qui c'era da divertirsi vedete intanto qui ecco la Clara Severi e poi qui Severi Lapo quindi sono i due cuginetti che si ritrovano vedete poi vanno a accompagnarli a ritrovarli quindi veramente simpatica anche questa scena di quelli un pochino più Grandicelli poi premiati tutti vedete con una maglietta la Coppa soddisfatti per il risultato e soprattutto anche per la premiazione che viene data a questi ragazzi insomma direi che tutto sommato si è stata una bella manifestazione e ecco l'anno prossimo sarà ripetuta quindi come probabilmente il periodo potrà essere sempre la prima di novembre quindi il primo domenica di novembre sicuramente è un risultato che ha dato fiducia anche agli organizzatori e quindi per poter proseguire quindi grazie anche alla Polisportiva Puglia qui intanto vediamo il podio dei primi tre assoluti veramente anche un grande podio importante i primi tre assolute vedete la soddisfazione beh insomma piacevole insomma anche questa cosa che è importante ovviamente l'appuntamento sarà per domenica prossima a Polisciano per il il ventunesima la ventunesima edizione del Memoria a Gabriele Lannetti questo trail la mattina alle nove la partenza di 12 e 22 km e nel pomeriggio le gare del settore giovanile che cominceranno verso le tre quindi ecco perché poi alle cinque è buio e quindi dobbiamo far gareggiare tutti grazie a tutti